Abbiamo un messaggio in segretaria Eh dai, leggilo Ah, ci sono, ok Sono bloccata al cancello e non mi fanno passare Quando arrivi a casa puoi prendere il mio biglietto Devo averlo lasciato a casa Dai una bella occhiata in giro e fammi sapere Ti amo, a presto Conversazione che io non sento dal paleolitico questa Mi volevo solo le cocche Oh no Ah vabbè, ma non c'entra con noi Guarda dove vai, che la pula ti vede che non stai guardando Pepehands C'è la luna, l'ho vista Alone, Joe Sottotitoli P.P.O.P Beh no dai, grandezza abbastanza Ma il garage è aperto, scusa Ma come cazzo vive la gente in America Outlast as fuck? Non credo Se lo fosse magari Vorrebbe dire che è bello Ansia Trova i biglietti dell'aereo Dammi subito Madonna il lag Take with you F Ok Ok no, non lagga più adesso Cioè Sta laggando perché è appena incominciato Adesso smette New tutorial unlocked Grazie Check under gameplay in the menu Ma come guarda nel menu per il tutorial Ma stai scherzando? Gameplay Ma è qui il tutorial Ma stiamo scemi? Main menu Exit to main menu Exit to main menu Che schifo è sto gioco 18 euro Ma le luci no eh Difficoltà Hardcore Normal Vabbè normal perché già sta andando mal L'ulvoo Interazioni Può interagire con gli oggetti Sì ma il tasto While interacting Prompts at the bottom Will advise you Sì ma come Come interagisco in primis Vabbè non me lo dice Oh mio dio È il tutorial più strano Che ho mai visto in vita mia Ah ok Basta che ci clicco Micchia posso interagire con qualsiasi Oh no È uno di quei giochi Dove non troverò mai Le cose che devo trovare Meno male che Minchia mi sembra uno svastico Meno male che era Meno male che Era serio È serissimo Ok ma perché è più buio di prima? Perché è più buio di prima? Perché io non so parlare? Barca puttana Devo trovare i biglietti Ma non posso camminare in casa mia Ah ok Ok Control mi abbasso immagino Gioco serio Di The Weird In teoria lo In teoria lo era Comunque ripeto Si chiama Infliction Ragazzi In teoria In teoria è stato giocato No anche De gente Quindi dovrebbe essere Un po' Un po' famoso Si è diventato la zingara Di Vale Ilse Spio Dalle case Se hanno magari Un po' di monete Così Un po' di Cambio Avete mica 50 centesimi Vi lavo la macchina Come le odio Quando Si mettono lì A lavarmi la macchina Anche se non voglio Come le odio Minchia l'odio Che parte Come si apre Non riesco Peggio di un gatto Genovese sfacca No io non gli do i soldi Per il semplice fatto Che mi viene a toccare la macchina Che gli dico di non farlo No 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 E lei parte Con lo straccio Mi spruzza la merda Sul vetro E parte con lo straccio Grazie al cazzo Che non gli do i soldi Gli vorrei solo dare Dei calci in bocca Questa possiamo lasciarla spenta Non riesce a entrare in casa Non è colpa mia Mr. Gary Va bene Siamo a Washington VA Dovrebbe essere Washington Dog grooming Abbiamo un cane Che portiamo Dalla tua lettatura Grooming E la tua lettatura Ragazzi Per Heidi Non abbandonare mai I tuoi sogni Si Va bene Che figo però Che figo Questo Fossi stato bambino Questo libro Ci sarei impazzito Quando ero piccolo Amavo i libri Con i mostri Qua abbiamo Melissa Satta È abbastanza Melissa Satta O sbaglio Heidi Aiaia Baby Shower No grazie Non sono quel tipo Di pedofilo Cioè Non sono pedofilo Punto Plain text In che senso Ah è per vedere Ah ok Comoda sta cosa Ok è comoda È per vedere le cose scritte In maniera più comoda Ok Abbiamo una foto Sara Halloween 1985 È la nostra tipa questa È la nostra tipa Eeeee Ok è una roba Della sicurezza Comunque Va bene Sarà una ricevuta Per qualcosa Quanti dettagli C'è a sto caso Eh si Scusate In quanti ci abitano In sta casa Madonna che ansia I valori nutrizionali Ma che Che cazzo di dettagli C'è a sto gioco Oddio Sono colpito Nuovo tutorial Sbloccato Ma sono proprio curioso Di andare a vedere E I oggetti di interesse Ah si illuminano Ah ok E hanno l'icona Di un occhio Anche Ok Va bene I cose importanti Sbilluccicano Tipo questo Mi sembra Giusto Sì questo qua Questo sbilluccica Non me lo fa Cazzo in bocca Magari Un cazzo in bocca Non me lo fa fare Non mi fa fare niente Maggie 3 Black arrow Non mi fa fare niente Sugar plops Ma non mi fa fare Più una sega Scusami Mio dio Mio dio Nonna v Nonna v Nonna v Proprio Hyper bra per cosa? Che cosa ho detto? Ho detto qualcosa di Terribile? Quando ci vuoi per cani? Quanto? Di do v Monka omega Serio È l'anno Credo si sia sentito anche in chat Cioè in live Il Bisbillo Il Sibillio Il bisbillio Boldi Ah A me era il cassetto È il cassetto che minchia Rugisce Ah ma posso vedere Dettagli incredibili Non solo si vedono le gambe Che non accade spesso Ma Se vi abbassate si vede Cioè la gamba che si piega Non l'ho mai visto in nessun gioco Credo questa cosa Nessun gioco Vi giuro che mi ha colpito A parte gli scherzi Comunque sì Aumento un po' il volume Dato che mi avete chiesto Di aumentare il volume Sì Sembra uguale Scusa Come si sente? Wow Ok è molto forte Ok abbiamo L'audio al 300% I botti improvvisi Saranno abbastanza No Saranno abbastanza 200% Eh ho capito Si cucina con Massimo Con Massimo Pericolo Ho tagliato due agli Tu ti sei fatto Facendolo due tagli Cosa Ma perché questo accento italiano Razzista Ma dai Ma che merda Ma non parliamo così noi italiani Basta Abbiamo Tomato E vabbè Abbiamo Cirbri Cirbri Ok Oggi Siamo Facciamo Un tipo di Rollare la carne Ma si può andare avanti all'infinito Ah figata Beh io chiudo Intanto mi godo sta cosa Intanto mi godo sta cosa Intanto qua c'è una roba che si illumina Ho avuto un presento Behind the Black Veil Behind the Black Veil 7 Che ansia Non mi aspettavo di guardarlo con te Ok Ok è un regalo Non parlare Zoccola Che sta parlando Massimo Biohazard Ma che figo Ma che dettagli Sì quello era Gragesi Ullala Ullala Basta Serio Basta Basta Serio Ma questo va avanti Per tutto Ma com'è nel cestino Ma non parliamo così Finiamo Basta Non parliamo così Bello che si sente in lontananza Io lo lascio lì perché Mi mette Calma Wow Questo gioco Mi sta davvero colpendo Magari è una merda Ma mi sta davvero colpendo Carina Ma Ah no Ok Mi ricordavo quel gioco là Con le due foto sul camino Messe uguali Questa maschera Sembra la più figa Effettivamente Lei è un sacco Carina Effettivamente Questi siamo noi Quello sono io Assomiglia Assomiglia vagamente A Ivan Non so cosa Mi faccia pensare a lui Forse Non so Vagamente Lei Topa Incredibile Ma io sono più concentrato Su di lui E vai E vai con i meme Tipo Tizia random E sicuramente Non diddo Ad esempio Ma perché non mi fa vedere niente Delle No Aspetta un attimo Non lo vuole Questo ancora Non lo vuole Non lo vuole Non lo vuole Non lo vuole Non sono sicuro cosa sta succedendo, ma lei può già disegnare bene Non mi sembra che sia così brava Tre anni dovrebbe saper fare di meglio, è la puttana Questa è una grande bocca? Cosa è? Wow, la mia traccia Oh mio Dio, una pupa! Quanto è emozionata Oh mio Dio, è papi Oh mio Dio, è un ricco papi Qual è il mio regalo? Mica una a doppie mani che girano? Era mica quello il regalo per noi? Beh ragazzi, stiamo qui adesso Aveva quasi dimenticato l'aglio Ok, oggi faremo qualche tipo di carne Ancora? Basta, quanti piatti? Lezione con Massimo Pepo Blanket Sì Oh, è Mike qui Eh, Mike Ho risultato un messaggio a cambiare il codice sulla porta di sicurezza Devi mettere il vecchio codice E poi seguire gli step E poi seguire gli step che ti ho detto Se hai alcuni problemi Puoi aggiungere la salsa e le spezie Il codice sul retro della sua business card Ok, dobbiamo ricordarcelo Cose da prendere Vabbè, niente, questa è una lista della spesa Ok Sono davvero colpito comunque Questo gioco ha dei dettagli pazzeschi E' un certificato di nascita E' un certificato di nascita E abbiamo una figlia quindi si chiama Maggie Lo chef in sottofondo è fantastico E' bellissimo, chef in sottofondo E' bellissimo Chef in sottofondo Cosa... che cosa abbiamo qua? Selector 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 Mi fa cambiare Ok, se vado sulla M vado sulla Mike Ah, è certo No, però vado sulla... Ma che figo Ma che figo Se vado sulla D di Diddle Se vado sulla D di Diddle Panini Downtown Burger Ma che figa che è sta cosa ragazzi Massimo New... 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 New Emote Massimo, lui, dici Wow, enorme, casa mia Sono dav... Sono davvero... No, no, no Sono veramente ricco Per davvero Ma basta, sta vecchia ovunque Porca troia Ce l'avevo anche io Ma è una figata Non l'ho mai visto io Mi dice Minchia, passavo sulla porta Ok, do... Dobbiamo cambiare quindi il codice di questa porta Giusto? Eh? Ma no Fammi mettere... Fa un culo Credo di sì comunque Perché abbiamo due cam... Ah... È il posto di primo questo? Sì Ok Nonna V ovunque Ma serio? Serio? Questa è chiusa? Ok, possiamo andare solo su? Ok Vabbè, no Pensavo... Mi sembrava molto più grande la casa effettivamente Cos... Cos'era? È la segreteria? Sento parlare! Ok, sto tipo impazzendo No, Leonard Aspetta, secondo me ha delle potenziali invece Guarda qua Dove la trovi una vecchia così in HD? Un co-mega Sì, la nonna V potrebbe essere il mostro Un po' cagare io... Lo sto... Me lo sto facendo però ragazzi Perché comunque... Giocando... Fa molta più impressione... Che vederlo forse... Perché sento rumori ovunque ragazzi Io ho i cuffi e sento rumori ovunque Mi mette ansia Quello di cui parlavamo ieri Oh no Che brutta cosa Uh No, no, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Che c'è da fare? Aha Oh, mio Dio, baby È perfetto Oh, troppo Sì Sì, lo vedo Lo amo, Gary Oh Troppo... Oh, quante Quante... Ma mettile bene Ma piegale Devo fare io Ecco la... Ecco il codice 0516 0516 Ok Abbiamo trovato il codice Oh no Woodface Guarda che cade sempre lo shampoo Cade sempre Che schifo Quanto li odio gli shampoo Ecco perché non mi lavo Perché cadono sempre Sempre Qui hanno perso una chance Potevano fare L'armadio più profondo I vestiti più in là E vedere in prospettiva Le scarpe E basta E non vedere che Erano solo scarpe Così sembrava che ci fosse qualcuno Con le scarpe addosso Nascosto dietro I vestiti Dentro l'armadio Quando invece Erano solamente Scarpe Basta Tipo vederle tipo Da un'angoratura tipo così Hanno perso un'occasione Fa la morale ai creator Sono un genio del game design Mi pare il minimo È chiuso It's closed 0516 5 head Ma se non volevano farlo indirettamente Dovevano Perché io Penso sia una buona idea Continuo a sentire rumori ovunque io Questo è uno di quei cazzo di giochi che Ve la carica Ve la carica Poi magari non accade niente effettivamente Però me la sta caricando un botto la caga Prima di andare giù dalla porta preferisco controllare ancora un paio di distanze Abbiamo qua Uhhh Ah Massimo come faccio a sentirti di qui Spaventato dallo chef Il game design nel tuo curriculum No quello no Quello no Abbiamo Vabbè la stanza del bimbo Va bene C'avevo anch'io una stanza così tipo Come pupazzi Madonna quelli lì Ci facevo gli incubi Si va Va bene Uhhh aspetta quello è importante C'è un po' di più C'è un po' di più Non ti fai affermi Sono solo andando per due ore Peppy era il più 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 unicorno del mondo Ma c'è un piccolo Unicorno di franzo Ci fa ogni volta Siamo a casa prima di te C'è un po' di più 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 Ci deve essere qualcosa di inquietante No Strano Uhhh Guarda quanti giochi che c'ha sto strano Non so Guarda quanti giochi che c'ha qui Posso giocare Uhhh 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 Sto facendo un casino incredibile Nella mia stessa casa Sto facendo un bordello pazzesco Troppo grande comunque questa casa Visto me Io non voglio una casa grande Pepe Jam Fistgoodman Clark Ah ma abbiamo due figli No no cos'è questo? Perchè aperto? Chiudilo Let me No no perchè nostra figlia Apri la vigna Questa è A è A No 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 Ma nonostante Ma nonostante Cosa è che Chiudilo ve l'ho detto che ha del potenziale pazzesco mi sta terrificando ma perchè devo avere una figlia satanista porca tre non è un cazzo vero ma dai che schifo ma i vermi white noise porca tre mi ha terrificato ma sentilo massimo in sottofondo il just bring a little pasta this meat va bene almeno non mi fa più paura ah è qua mi sa zero 5 1 headbanging headbanging chuck nooo 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 ho certificato se mi danno la possibilità di non avere paura io la colgo forever 5 1 giugno 1999 dottor mucca comunque è anche carino cosa cazzo so accade non si sa che cosa stia accade da quel biglietto ok ora credo di potervene andare obiettivo completato posso andare a chiusa la porta è chiusa la porta se la porta non si valigia la valigia perché è fatto di pingo sta merda cos'è questo non sto facendo ci sei andato da solo c'è un'altra cosa stai facendo cosa è con la maschina è in casa get the hell out of here è il nuovo obiettivo massimamente è in casa oh no monca e che cazzo è successo qua no ragazzi sto battito cardiaco fortissimo c'è massimo che fa camera della piccola credo di dover andare là oh è chiusa sto cazzo di boom 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 basta basta non c'è non c'è se nincono questo si che fa paura altro che non riesce sono tutte chiuse la nonna boo non è che devo schiacciare il codice qua è aperta questo sulla cantina non vedo nulla non vedo niente da fuck ok dio dio l'ansia si però cioè sei un ritardato anche te però eh freehead eh ma abbandona tutti ma non c'è nessuno in casa sentivo la bambina urlare pensavo fosse un indizio di andare lì what the fuck what l'incidente di inizio è vero all'inizio siamo noi che bella sta cosa qua continua a dire sono bloccata al cancello non mi fanno passare ma che figata perché sono di nuovo qui perché cazzo sono di nuovo qui trovo un modo per cacciare lo spirito il nuovo il nuovo obiettivo ma chi se ne frega scusa ma fammi andare via ma chi cazzo se ne frega di cacciare lo spirito no dai io non volevo giocare io volevo giocare torno su trials non frega dai no non voglio cacciare lo spirito serio metti la musica metti la musica metti la musica mettici il cd mettici la roba vai un culo non funziona perché non perché il fantasma si è ciulato i vestiti soprattutto apex streamer metti il cd didossidi questo era il bagno no si io continuo a a sentire passi ovunque quello non c'era primo sbaglio fra l'altro non vuol dire niente quello a sentire passi non capisco se sono i miei o no che cazzo è successo anche qua io ho capito abbiamo due figli ma io mi ricordo sono maggie perché c'è del sangue nella culla del bambino o di insidious si spirito di ddv porta esatto esatto siamo noi il killer perché siamo noi i killer pepe gem boys adesso si ok sono molto più coraggioso ma non c'era quella roba non c'era la nonna v è più forte che mai pepe gem la nonna v è più forte che mai sicuro e continuo a sentire bello fuori comunque abito a milano tu abiti a kingston io a milano c'hai paura sto citando il dis di vacca a fabbricida by the way ok qua non c'è una sega ok a posto a me siamo certi che qua non c'è niente hanno tolto i quadri di nonna v per questo si è incazzata è vero per quello per quello no è il fatto che nonna v è fisica adesso è in giro che gira no eccola lì c'è c'è questo rumore ah il lampadario che oscilla sì ma ci sono troppe porte in giro troppe murder suicide aaaaa quindi una donna è stata la donna ha chiamato la polizia è stata trovata pugnalata varie volte il primo sospettato è il marito Gary ma quindi siamo noi gli assassini come cazzo l'avete capito e lo la polizia non lo può interrogare perché anche il marito è stato trovato morto qualche isolato dopo dopo aver fatto uno scontro fatale con un camion scusate con un albero i killer siamo noi perché prima dell'incidente si vedeva che dopo essere salito in macchina su sedile nel passaggio c'erano la maschera al coltello aaaaa per quel dettaglio lì le mani sporche la maschera giusto 5 head chat o la chat è più intelligente del mondo aveva allarma del delitto in macchina ok le investigazioni comunque continuano Gary e Sarah erano conosciuti alla polizia perché per lì vabbè le classiche percosse in famiglia la coppia aveva una figlia Maggie di 19 anni che non si sa dove sia ok va bene se sapete qualcosa fatecelo sapere ok bene vabbè direi che allora si va senza paura si va si cammina si va senza indugio si cammina si va easy wow quella cosa madonna però queste cose mi inquietano più del dovuto ok è diventato un di due perché lei è sfocata no ok la figa è rimasta figa ah no niente mi sembra che una maschera avesse tipo i tentacoli che uscivano non avrebbe avuto molti no ah ok pensavo che mi avesse inciolato il telecomando please ti prego ne ho bisogno no dai non mi fa vedere dai no massimo come visitor si è cambiato non c'è più madonna ma che figli cos'è questo cos'è questo ma che figo che è sta cosa mi piace troppo questa cosa qua salute welcome to the family ecco la mafia ovviamente ha un titolo italiano ovviamente carnival ma che figo che è sta cosa ma che figa che è sta cosa erano tette no è un culo no scherzo non so cosa ti stavi riferendo golden oldies ma ragazzi comunque se dragonborn è un gioco questo vi giuro che ma cos'è si indiana jones con rally power ok vi giuro che non mi ricordo di un gioco così tanto dettagliato l'esorcista 1 e 2 ok anch'io c'evo le cassette con i nomi dei film scritti così è fighissimo cioè è fighissimo un cazzo abbastanza scomodo però è fighissimo vederlo ecco è una cosa che non vedevo da millenni sento ridere dai ero tranquillissimo ma le cheat bellissime io faccio solo giochi di qualità ovviamente sento parlare sento nel forno come in the visit no ah ah era era il forno mi sa ho il volume troppo alto ragazzi la pizza però la pizza quante calorie contiene 380 calorie non è poco non è ah per 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 serving cosa vuol dire eh no eh no si è giusto è giusto praticamente sono tipo 4 fette 4 fette una fetta contiene 380 calorie 18 grammi di grassi colesterolo è indicato come ingrediente il colesterolo pizza è indicato come come ingrediente il colesterolo nei cibi ma il colesterolo esiste davvero cioè nel senso esiste come oggetto fisico del tipo eh oggi vado a comprarmi del colesterolo no volevo vedere cosa c'è sotto è identico sotto dai non vale sunday roast dinner ma che schifo ma come come mangia questa gente ma dovrebbero essere obesi ma che schifo mangiate ecco e poi un'anguria messa lì uova marce madonna che che ma che schifo ma che schifo mangiate la merda e tagliate la muffa cazzo vuoi che icono eh mangiate male americani mangiate davvero male stai zitto no vabbè potrebbe essere utile fuori si può fuori non posso una donna è stata trovata uccisa è stata pugnalata più di dieci volte sia lei però è è riuscita appunto a fare una chiamata appunto il marito è il sospettato è stato è stato trovato morto bla 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 anche l'arma del delitto così so schifo la coppia aveva una figlia di 19 anni se qualcuno lo sappia contattare io vado semplicemente alla basco a comprare il colesterolo il colesterolo si rimuove anche chirurgicamente è un tipo di lipidi non credo tu lo possa comprare puro ma si si rimuove chirurgicamente chirurgicamente che bella che bella è che bella è guarda l'album che bella è perché è sparito la foto importante questo ci sono entrato no questa porta non ci sono ancora entrato chi è lui i miei pistilli sono oscuri oscuri come la notte bla 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 la vita assenza di luce vienimi a trovarmi la vienimi a trovare la va bene oggi mi sento meglio le mie mani tremano mentre scrivo questa cosa Maggie è andato via Michael anche Gary è andato o almeno se n'è andato l'uomo che amo sono solamente io e il mostro che vive dentro Gary anch'io Coral anch'io voglio il non raggio e il colesterolo in bocca no ovviamente no che schifo fa veramente schifo the beatings mi picchia sempre più forte e io sto finendo le scuse sono così stanca la vicina di casa ieri è venuta a casa deve aver sentito le urla mi ha detto di chiamare la polizia ma non lo posso vedete quanto però è malata con questa cosa queste cose fanno paura perché sono reali dice mi dice di chiamare la polizia ma non lo posso fare amo così tanto Gary monca e non ho mai superato il fatto che abbiamo perso Michael e dà la colpa a me forse è davvero colpa mia tutto ciò che fa è bere chiuso nello scantinato e la notte legge quegli strani libri è così strano così fuori ora che cosa posso fare non posso abbandonarlo so che Gary è lì da qualche parte io ci sarò per lui quando tornerà il mio Gary vero fa cazzo questo è così difficile devo stare devo rimanere forte per lui no cioè questa cosa qui è estremamente reale per questo fa paura perché nella vita reale accade davvero così che il tipo il tipo che picchia no oh 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 Porca tron Mi sto cagando addosso Monca eee Non ho mai visto la chat così piena Di monca e monca esse Non l'ho mai vista così piena Stavo dicendo che nella vita reale È proprio quello che accade La donna È veramente Fatto bene moncai Sto gocciolando Basta Nonna V Ti prego basta Nonna V E lei Porca troia Una volta che becco un horror A caso È fatto bene È la prima volta Tipo Sto dicendo che nella vita reale Accade davvero così Che lui riesce a convincere lei Che l'è intorto È uno schifo Vedo nello specchio Guardo nello specchio E vedo solo Una Un recipiente Ask È Una cosa vuota Un involucro È fatto veramente bene Questo qua Sto cazzo di gioco Stavolta È fatto Oddio Hello neighbor È fatto veramente bene Ok siamo Forse stiamo Vivendo un flashback Insanity lies Beyond the La follia Giace Al di là del muro You'll Lose Your Perderai la tua anima Moncae Moncae Mi sto cagando Così tanto Addosso Così tanto È in assoluto Uno dei Uno dei più pesanti Degli ultimi tempi No Degli ultimi tempi È il più È il più pesante Sicuramente Degli ultimi tempi Dobbiamo spostare Ste casse C'è un passaggio Di Uuuuh Prendi Minchia ma portala con te Cazzo Non posso Serio Voi siete tranquilli Tranquilli lì eh No beh anche voi Vi ho Non vi sono Cuotati Ma scusa Se io sono il killer Dovevo essere io a fare paura Agli altri Stiamo letteralmente invocando Tetra o sbaglio Credo che stiamo facendo Un sacrificio a Tetra I spiriti cattivi Sono nati Di una morte Violenta Nuovo obiettivo Lasciarlo scantinato Perché? Perché? Ho visto un'ombra No 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 Basta questo gioco Basta Basta Non lo so se mi Non lo so se mi serve leggere Quell'affare Però Porco due Minchia stava per scapparmi Stavolta No non vedo nulla Sto gocciolando Oddio Oddio Basta Monca E Monca Omega Sono Sto morendo Sto morendo Che scaga Ma Io non ho capito se era voluta questa cosa Mi sono cagato tanto Non ho capito se era voluta questa cosa Ho sbagliato io qualcosa Questo mi spaventa Actually un bel gioco Actually un bel Troppo Troppo pesante Sapete cosa? Il Il design dell'audio È assurdo Il design dell'audio È assurdo Il modo in cui lei Faceva quei suoni Quelle Tipo grudge Porca troia Minchia ma non c'è un cazzo Di un attimo Di tregua Seriamente You will be down here Sarai Qua sotto anche tu Presto Tiro la catena io Eh Vediamo come la metti Se tiro la catena Mi vuole qui perché la porta si è aperta Metti la musica No non c'è Chiudi In bagno In bagno Mami My mommy And my daddy Oh so cute Rain rain Oddio Eat as fuck Ok Ragazzi vi giuro Sto gocciolando In una maniera Minchia sto sudando Seriamente come una puttana Come una puttana Sento rumori anche Come se stesse trascinando qualcosa Forse Trascina i suoi stanchi passi Giusto per dare più patos Ok Qui insieme non esserci più niente Comunque il nuovo obiettivo è trovare I suoi resti ce l'ha scritto Sì No sono sbagliato Dammi quello vero Ma dammi quello giusto Hai rotto il cazzo Non ho più paura Non ho più paura No è già finito Ok ora un po' ce l'ho Non posso prendere niente Che assomiglia a un'arma Davvero Un culo Io sono l'assassino Io sono quello che dovrebbe far paura Che palle quadrate Pepe Jam Che poi è tipo la sigla di Viva Le Hills È tipo eh È fighissima questa cosa Il bagno non c'è più Na 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 No Hide Perché possono Perché mi ha dato il comando Hide ora Merda Io pensavo che non potessi Essere inseguito Mica Sto silenzio tombale No Monka Omega No 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 brutto così Brutto così Sento rumori adesso Forse avevo sbagliato il tempismo Prima Forse ora arriva Ma non è vero Ma sì Quella lì Che bello Partire dall'obiettivo Di cambiare un codice Di una porta E finire così Io stavo solo andando A prendere dei cazzo di biglietti Per un aereo E fra l'altro comunque Anche se avevo speso 20 euro Speravo che il gioco Fosse una merda No 20 euro no Perché ora è in spunto Però comunque speravo Che fosse una merda I am weasel Che cos'è sto rumore Lo sto tirando Cos'è questo? Davvero senti rumori Calati più nel personaggio Leonard Se vuoi roba roleplay Vai nelle tue chat Furry Nothing scares me Niente mi spaventa adesso Basta No ragazzi Non lo reggo Dammi l'ora I 26 Non lo reggo Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Timing Niente mi spaventa Adesso capito Ma cosa vuol dire Trova i suoi resti Se Ma non è vero Tanto questo Ma anche l'animazione Di lei che corre È fatta troppo bene Non pensavo di giocare A un capolavoro Cazzo Lulvu Ora è sicuro Ora è sicuro No Lo specchio Non funziona più Devo trovare Trovato? Cazzo È stato 4 anni Ho bisogno di te E ti amo Più Mi spaventa Scusate 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 Se parlo poco Ma sto veramente avendo paura Ed è da tantissimo tempo Che non avevo paura Giocando Ormai ogni cazzo di gioco Che giochiamo Fa schifo È troppo tempo Che non giocavo qualcosa Che davvero Faceva così tanta paura Cioè faceva paura qualcosa Boh Così Minch Vediamo qua prima Così tanta sicuramente no Così tanta sicuramente no Ok Dobbiamo trovare i suoi averi Dobbiamo trovare qualcosa Che di lei Qualcosa di lei Qualcosa che luccica c'è Non è un little game Non Si Gioco solo la roba della basco Quindi quando becco sta roba Mi terrorizzo No Vabbè immagino che sia giù Effettivamente però Ha senso Prima lo faccio Prima è Prima lo faccio Prima finisce Prima lo faccio Prima finisce Prima lo faccio Prima finisce Dido Si uomo Porca troia Ti tira fuori i coglioni Tirali fuori i coglioni Tirali fuori Porca puttana troia Tirali fuori Falli vedere Falli vedere Cos'è la basco No 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 New friends Oh no 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 La basco è un negozio Che c'è Soprattutto a Genova Forse anche Anche in Liguria In generale In Liguria Sicuramente Soprattutto a Genova Pepe laugh It doesn't know New friend Ero Ero qua Sì ero qua Giusto Questa porta ancora Non l'ho potuta aprire Non sappiamo ancora Cosa c'è lì Ok Lì c'è una lacrima Un occhio che piange Un tizio sul mare Lì ok Ma perché lei era qua Prima Tra l'altro Era random la cosa La sento Porca puttana Non posso muovermi Non posso muovermi Ok Sto sudando E non è caldo Ma pensa io Cazzo Questo è schifo That's what a good pussy Sounds Ah scherzato Unlucky for some Che siamo su Some No anzi Ok Poppa C'è scritto Sfortunato Sfortuna per qualcuno Porta con te Va bene Tutorial Tu switchi tua camera Nuovo Depressi da camera button Quale cazzo è il camera button Puoi fare le foto Foto Spesso faranno vedere Indizi nascosti No dai Ma odio No sta cosa fa schifo Se le femmine muovi Se le femmine muovi In che senso New tutorial Ah con l'ac Ok Modalità doc Nei bagni Closer Ok Dovrei fare la foto What the fuck What the fuck Ma che Ok Oddio mio Questo gioco diventerà impossibile Adesso anche Oltre che Terrificante Sta musica in sottofondo Di Di dossi Di foto Beh i bagni sono comunque Una cosa pubblica Cioè Clic Si si casino Che casino C'è un mio cine C'è un cine C'è un cine C'è un cine Non ascolto niente C'è un cine Mi serve solo sottofondo Si Ecco Si 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 Ah Mostrati Massimo Mostrati Mostrati Massimo Mostrati Ecco Si Ah Guardalo lì Che spettacolo Di uomo No 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 Spengo Riaccendo Porca Troia No Porca Troia La mia unica Tattica Per non morire Ma come Ma no Ma non lo sento più Cazzo Mi basta un passo in qui Per non sentirlo Ma porca puttana Chi cazzo sei? Tutto ciò che fai è bere Sì infatti Lui era diventato Un lago Alcolizzato Non vivo così Non più Sa bene che è bellissima Dalla storia E anche perché È realistica A parte il fantasma Cioè È una cosa Purtroppo vera Tutto questo Quindi È incredibile Questo è il dato Che rimuovi giusto? Quello che fa box Wow È tipo Un dio greco Che Fa quella danza lì Di Fortnight Tipo quella Non so come si fa Avete intuito Spero Ok Allora C'è di buono Che se fa così In teoria Vuol dire che questa parte È guidata Esplorativa Quindi non posso Morire Giusto? No 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 Premier Force To assist family E aiutare le famiglie In crisi Vabbè Non credo che Si può Girare Sì No no aspetta Porco Gary family Condoglianze Credo sia Per il figlio Che è morto Avevamo due figli Il maschio è morto Wow Quella farina gigante Era big Era big Bambusa Per davvero Quella Quella farina Sì Oddio ma mi sta Mettendo un'ansia Cioè un'ansia Un'angoscia Manca è Li ho visti Prima i Sam Ragazzi Grazie Grazie Cos'è questo qua? Ok Questo è articoli Sulla violenza Domestica Ok Sì che comunque è un grandissimo tocco Perché rende il gioco Perlomeno non si è visto niente Sì a posto Tutto bene Tutto bene Ok la fotocamera C'è ancora Bene quindi immagino Che siamo fermi Ok devo rifare il percorso Non ho ben capito Eh sono d'accordo Con i vostri punti di domanda Riddle No Gli enigmi no No ok qua non c'è niente Indovinelli comunque abbiamo Qua c'era Eh quanto Eh sono pasticche Cioè lei per non sentire Tutto il dolore Che il cavo usava Col pezzo di merda Si imbottiva di pasticche Wow questo gioco Eh Eh Non sento Ma sento il nome qua Eh ma era lui che parla Eh Xanax Gachi please Xanax Il CX infatti Il CX Sta per cento Xanax No Ovviamente No Ovviamente Ovviamente Non fatelo a casa Ovviamente Non ho scherzo Non mi assumo responsabilità Era chiaramente una battuta Era chiaramente una battuta Quindi non mi assumo responsabilità Ma dovete finire Ma dovete finire Scommetto che ora il corridoio si allunga Fa l'effetto ottico che si allunga Moncae Moncae Snimkorn Here it comes Any moment now Any moment now Something Is about to happen Moncae Voglio solo una live decente Ok What Aspetta però C'erano delle scritte Sulla porta No porco Non riesco Ma c'erano delle scritte Vabbè Dove cazzo sono? Ah Giusto di qua Massimo 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 E' un culo No Ma ok Devo solo disabilitare il joystick Perché mi sto impazzendo Gamepad Non si può togliere Serio Porca troia Che fastidio Massimo Parla Massimo Oh mio dio c'è Massimo c'è Massimo Porca troia Ok ora non mi ha fatto paura Perché sapevo che stava arrivando Ma in un'altra occasione Dove non lo sapevo Già che arrivava Con Massimo in sottofondo Pei che de pasta Ma in che de sugo Ma mi guà Ah forse era No non c'è più Non capisco quali sono le cose Che devono succedere per trama E quali sono le volte che sbaglio io Che è? Trova alcuni suoi re Ancora Minchia ma sa aprire le porte Questa cosa è terrificante E' terribile il fatto che sape aprire le porte Nasconditi Ah vabbè si se mi inseguo Vabbè ma non mi sta inseguendo Quindi Credo Credo No 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 Devi stare zitto No 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 Come hai aperto la porta in quella posizione? Metti che c'è una mano nella Nella vagina Ce la faceva tranquillamente Se era quello il caso E in tal caso braviss Bravissima Sono confuso E' sparita una Oh no Se guardo in quel buco accadranno cose Io lo so Ok Ma se vedi bene è stata una distorsione di questo piccolo corridoio Cosa c'è fuori? Non c'è niente fuori Siamo nel nulla Quanto mi inquieta questa colonna Ok dove L'unica cosa che può Vabbè Sappiatelo Arriva Non è un glory hole purtroppo Arriva al botto No Ok dobbiamo fare qualcosa Allora qua C'è qualcosa qua Sto coso qui Non posso sfilarlo via C'è un buco lì Infilati Strappa via sto coso Dov'è legato? Strappa via Madonna Ah la foto Giusto giusto C'ho una macchina giusta Eh ragazzi Non ci penso mai Ehm No Come le granate Nei giochi di Guerra Cioè va bene Nei giochi di sparatorie Non le uso mai No? Dio che brutto Quando penso ci sono già La muschera non c'è E ti aumenta la caga Esattamente Esattamente Moncae No ragazzi Davvero Non ho mai Visto quei tanti moncae Era tantissimo tempo Che non ne vedevo così tanti No Non c'è niente anche Aspetta 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 Alla porta Dovrebbe ricomparire Così No Non ricomparire neanche la porta Ah la C'è roba sul soffitto Forse Forse una botola Però Sta parete lì dietro Neanche cambia Cazzo vuol dire Ste foto per terra Ah sono quelle che sto facendo io Ok Ma le butto per terra Così Ho preso un dente Ah dovevo trovare il dente No Non posso muovermi Devo trovare il dente Non posso muovermi Non finiamo Va bene ok Almeno questo Non ha fatto paura Cioè è stato disturbante Quello che volete Ma non ha fatto paura Ok Dobbiamo trovare Gli altri suoi resti È un gioco serio È un indie È un indie Ma ha la qualità Di uno serio Comunque Però è un indie È un indie Al 100% Via al dente Via al dolore Via al dente E benvenuto il mostro Più che altro Pepe Kerr Cioè se noi siamo il marito Un po' ci non Ne meritiamo Fino a che ora Eh fino a luna Come è sempre Fino a luna Cioè orario standard Diciamo A meno che poi non scopro Che manca un minuto Ma non credo Perché Non credo perché Se guardate nel menu Del tutorial Manca ancora Una meccanica di gioco Cioè ci deve ancora Insegnare una cosa Trova una foto Della morta Ok Beh se vado Adesso gameplay Qua manca una roba Quindi Non credo che manchi poco C'è un Ok No ho sbagliato Ah che bella foto Sì ok Abbiamo una candela Vabbè ora in teoria Non doveva accadere niente Perché il capitolo Ha appena incominciato Dobbiamo trovare Una foto Della morta Ma cosa vuol dire Cioè devo fargliela Devo fargliela una foto O devo trovarla Ora c'ho questo dubbio Che mi attanaglia Mezza rima Quasi Era più una sommanza Poi basta che paga Sai Con i suoi soldi Ma che schifo Ma che schifo Germano Basta che paghi Ma che schifo Ma che schifo Grazie Germano Per aiutarmi A calmarmi A essere più tranquillo Grazie mille Che schifo Pepe V Che schifo Ma che schifo Pepe V Eccola lì la bambina Che piange Ricominciamo Here we go again Ah shit Here we go again Oh sento correre Posso? E lo so che sei lì Tranquillo lo so No in verità Aspetta Questa è la stanza Oh no Questa è la stanza Della grande Perché si sta Ciulando tutto Prima i vestiti Ora i poster Sono bloccato Minchia ho sentito Rumore alle mie spa Ah ragazzi Io 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 non ho più Io non ho più l'età Per queste cose Io non ho più L'età Per queste cose Ok Non Non ho più l'età Riccardo Flick Sono morto Sono Morto Cazzo Sentite una roba Levo a vostri spalle Mentre giocate A sta merda Ancora io Che ci provo A accendere L'interruttore Cioè vabbè Usare L'interruttore Non credo Di trovare Una foto Della morta Nei cassetti Del cucito Qua Cosa Cosa vuol dire Ma una foto Della morta Da Da morta Cioè Non ho capito Cosa devo trovare In verità Quanto lunga Sta roba Non mi interessa Sta stanza Cerciamo mai Entrati qua Mi pare di No Qua mi pare di No Ok Abbiamo Porca troia Questa cosa qui Poteva essere La fine Per tutti noi Comunque I I Riccardo Flick Di cui state Che state Spammando Sono morto Io prima Altro che Riccardo Flick Sono morto Di paura Meno male Che non c'è Una botola Sul soffitto Perché di solito Il peggio È sempre lì In ogni cazzo Di gioco horror Sento ridere Sento ridere Sento camminare Sento porte Sto sentendo Qualsiasi cosa Cosa ridi Vabbè Aspetta che magari Ora è meglio Che Ok I vestiti di carta PPL Il mio cervello Non lo regge Questo casino Mi sa che sta arrivando Arriva Arriva Pronto Io ho paura Io ho paura di uscire Nello stesso istante In cui entra Perché il mio tempismo È sempre questo Il mio tempismo È sempre una merda Faccio esco Vado io Errore Incredibile Cribe Baby rage Ok Ok Lui è venuto Lui è venuto Ma è ancora Lui se n'è andato Ma lo sento ancora Vabbè Bla 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 Lui mi metto Prendilo Che è Che è Che è Che è Che è Siamo entrati Nella fare Nasconditi Moncae Arriva Ragazzi Io non lo so Che devo fare Io sono spaventato E basta Si 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 Se non lo finiamo Ora Si si Certo Se non lo finiamo Ora Assolutamente Si Domani Domani Perché venerdì Ceva le ilse Quindi Se non lo finiamo Lo portiamo Domani Anche se non vorrei Ok E' un altro Flashback Immagino Ok Adesso possiamo Attivare La nostra Ah Abbiamo un pezzo Di foto Ciao Abbiamo un pezzo Di foto Ok Ce ne manca uno Trovo il resto Della foto No dai Non fate ste cose Alle porte Che mi spaventa Ogni volta Però Cazzo c'è di là E' diverso E' tutto diverso Pepe Jamming Coming Dai Puoi fare Quello giusto Ah Here we go Here we go Oh no Me l'ha tolta La porta Non posso Neanche rifarla Che è sta roba Pepe Jam Te l'ho detto Stavo dormendo Lì era fuori Con Maggie A prendere il gelato Non lo so Avevo sonno Dormivo Ascolta Il mio bimbo È morto Non lo so Come Che razza di Dio Ucciderebbe Un bambino Io non ho ucciso Il mio figlio Sì avevo La depressione Post parto Ma giuro Mi sono svegliato Ho sentito Uno strano rumore E una sensazione strana Sono entrata Nella sua stanza La culla Era caduta C'era il suo corpo Senza vita Era blu Oddio Quanto sangue Il mio piccolo bimbo Madonna Ma è pesantissimo Sto gioco Il doppiaggio È incredibile Ma è il doppiaggio È incredibile È un doppiaggio Da tripla Porca troia Che bello Il doppiaggio Siamo in una Un ospedale No In una stazione Di polizia Ok Siamo in una Stazione di polizia Monca E La doppiatrice Voice actor Incredibile Bravissima Si vede che Si è impegnata Non l'ha fatto per niente Così tanto È incominciata Un'investigazione Sulla tragica morte Di un bimbo Di sei mesi Il padre Era fuori Con la figlia Di sei anni A fare le commissioni Quando sono tornati A casa Hanno trovato La madre Del bimbo Che teneva Il cadavere Del piccolo Tra le braccia Le autorità Hanno preso La madre In custodia Per farle Delle domande Ma non ha ancora Parlando Un portavoce Ha detto Che la morte Del bambino È stata Accidentale Però Comunque Si sta investendo Si pensa Che sia stato Un Tipo Roba Da bambini Difettosa Tipo appunto La culla Vabbè Blablabla Queste Nelle Condolianze A chi ha perso Il bimbo Abbiamo una tessera L'ufficiale Carrie Mills Ok Con questa Credo che possiamo Aprire le porte Credo Perché siamo qui dentro Io non ho mica Capito sta cosa Non ho ben capito Perché siamo qui dentro E la La lancio Proprio Play Pausa Play Pausa Ma perché vanno Troppo veloce Cazzo 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 Conf Minchia ma un po' più Un po' più di zoom In sta cosa Confidential Police Department DPF Non so In che città siamo Non me lo ricordo Cos'è sta roba Dome della vittima Michael Ah è il bambino Di Il nostro figlio Di sei mesi Forse perché Il momento Dell'interrogatorio Della tipa Ah è vero Per quello Sì 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 Il piccolo Michael è stato trovato Morto dalla propria madre Nella loro casa La madre afferma Che stava dormendo E si è svegliata Quando ha sentito Un rumore Nella stanza Del piccolo Ed è la Culla Che è caduta L'investigazione Che ci si che ci Controllavano Un pezzo di qualcosa Non so Ah un pezzo di foto Sempre un pezzo di foto Stai lì Tutto ok Stai lì No Sta facendo cose Porca troia Questo gioco È un cazzo di film Porca troia L'ho vista E non mi ha fatto paura Però l'ha testata Ma ha fatto paura Quel cazzo di botto Mi ha fatto paura Ecco perché C'è la culla Crollata E il sangue Minchia sto gioco Che disturbante Che è anche Disturbante Oltre che fa paura È l'unica accesa Quindi bisogna andare qua No Di Di solito La luce Pepe gemma Non so perché Mi faccia sempre così Così Tanto ridere Sì ho beccato La musica Allava Prima Sì Ok Va bene Sì Non vedo nulla È peggio che mai Credo che siamo nel finale Perché è peggio che mai No però è impossibile Mi devono ancora spiegare Della roba È impossibile che sia il finale Però io non vedo Anche se ci fosse la tipa Io non la vedo Quindi Mi viene in faccia E basta Eh ma non vedo Cosa sta facendo rumore Non posso aver paura Di ciò che non vedo Cioè oddio In verità sì Lo dice anche Edgar Allan Poe Ma capite Cosa voglio dire No non mi sto a nascondere Perché Non credo che stia arrivando Questo basta Ok Niente ok Basta direi Gachi Hyper Viene in faccia Sì I cigolili sento Ma è l'unica cosa che sento Ah funziona Qui la luce Perché qui no Dove cazzo è l'interruttore Qua in corridoio Non vedo Porca puttana No 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 Così in faccia No Oddio No no Così no Oh mio dio Il mio cuore Porca Monca Omega Almeno siamo Nella stanza Con la Con la musica Va bene Ora io vado La dritto Perché è di là Almeno so Che è di là Che devo andare Alla prima Ma io Vado un dritto La Pepe gem Sì ma No aspetta È impossibile Che sia di qua Ci siamo già Andati a cercare La foto Deve essere Per forza qua Per quanto Io non voglio Andare qui Eh lo so Che la La sento anch'io Che piange Ragazzi Cioè in verità Non lo so Se è lei Che piange O è il telefono Questo è un horror Da top tier Sì Sì No non è il telefono Oh era la cazzo Di radio Ti prego Ti prego Non c'è neanche Non c'è neanche massimo Non c'è neanche massimo Cos'è che rotola Cos'è che sento Chat Monca E Monca Omega Chat Oddio La madre No 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 Niente Sembrava che Avessero dato La colpa Alla madre Ma no no Serio Non c'è Porca troia L'unica cosa Che ci salvava Ti ricordi Quel discorso Di ieri Quello è orrore Questo è terrore Sì Esattamente Esattamente Questo è terrore Questo è terrore Non è orrore Non credo che Dio Cristo Si possa dire No no si può dire Si può dire Si possono dire Dio Cristo E Cristo Bobo Sulul Dobbiamo Dobbiamo sdrammatizzare Perché io non ce la faccio più Sto cedendo Le mie palle Stanno cedendo Non per la noia Ma perché non le ho più Non le ho più Guarda sta roba Ma basta Questa è condoliscenza Condolianze Condoliscenza Guarda che schifo Quanta birra Quanta birra Minchia Mi prendo una birra Lascio tutto aperto Io sono il vero mostro Eccola La fonte di ogni male Eccola Si Sulul Ok qui dovrebbe essere Tutto tranquillo Sembra Qui è tutto tranquillo Appunto Sembra Ripeto No no Via via Ok Forse quella È una lettera di Pignoramento Addirittura La porta Dove cazzo devo andare Ah forse allora Davvero in garage O giù 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 devo andare Mi sa Merda Giù in cantina Mi sa Ma dove cazzo è lei Perché lei a volte c'è A volte no Questa cosa mi spaventa Più di ogni altra Perché non riesco a controllare lei Il non poter controllare lei Mi fa impazzire Se fosse una faccia Il mio cuore È l'una By the way Si si lo so Lo so L'ho guardato prima Erano tipo i 48 Quindi immaginavo fosse l'una Ok This is it Qui c'è sto coso E non fa niente This is it O è lì O non so dove andare Perché c'è Perché c'è casino qua Perché c'è sto casino qua Perché c'è casino Oh Calma Ci possiamo incalmare Tipo tutti Ok Nessun gioco Che abbiamo mai portato Sul canale È stato così Monca e Snimcorn Questa è proprio La rappresentazione Non c'è niente Neanche qua comunque Sono veramente confuso Adesso Oh no No Gli incubi faccio Questa notte Basta Basta Questa notte è fatta Eccola Era là in fondo Non so se la Avete vista Catroia Ora aprirà la porta Ora aprirà la porta Credo Ok però ora possiamo Controllarla Ok ora possiamo Controllarla Perché sappiamo Dov'è Nonca è Allora È l'una Io non lo so Io Io What Sono così Impaurito Ok Prendimi Oh va bene Hai vinto Ok Sono terribile Sono terrorizzato Sono così Spaventato Non riesco a fare niente Cazzo La fotocamera Ecco cos'è Che non sto usando Dove posso usarla Dove posso usarla Devo usare la fotocamera Da qualche parte Traumatizzato Grazie Martina Grazie mille Direi che lo continuiamo domani Perché È l'una Se grido Svegli miei What the fuck Bastava toccare Sto coso Per far casino Perché davvero Non ho idea Di dove andare I dettagli Fighi Si ha dei dettagli Pazzeschi Continuo domani Perché Sono sincero Non ho idea Di dove andare Uh il telefono Find me on the baby monitor Cos'è No aspetta È su il baby monitor Non è Qua c'è il piano Pappagalli Ok Il baby monitor È su Cucu Cursa the room Cucu Pappagalli Ok Il baby monitor Non è qui Non è questo Perché non c'è più Sì che era questo Non c'è più Infatti Il baby monitor Cucu Cucu Volevo dire Cursa Ma sono troppo Impavorito Sono troppo Impavorito Cucu 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 Quello No Ma che è Storno Pensate a giocarlo Come una persona normale Imagine being normal Deve essere per forza Qua però Ah no Merda È la stanza Dove ero È la stanza Della musica Perché era lì Il piccolo Porca toia Ho obbligato stanza Ok Ho ancora una chance Non è qui Quindi Via tutti Ok Qua deve esserci Il baby monitor Da qualche parte Perché la camera Del bimbo è qua Quindi Matonna Cos'è quello Quindi deve essere Qui il baby monitor Giusto Per logica Enormi Riii Che cazzo vuol dire Find me on the baby monitor Comunque l'une Siamo ancora in 110 Sì sì È una cosa fantastica Perché comunque Il gioco merita Il gioco Merita veramente Mental Mantel Il gioco merita Veramente tanto Scirocco Sei tu Comunque Io non trovo Il baby monitor Lo schermo Ma quale schermo Di quale schermo Parlate È vero Monitor vuol dire Schermo È vero Sono proprio Coglione Però Che schermo La fotocamera Sì ma dove Terribile Questa cosa No Non ho idea Prova nella stanza Dei genitori Devo intanto Capire qual è La stanza Dei genitori Perché non c'è più La porta Chiudi 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 Wow Quanto Spoglia Questa stanza Mi mette un'ansia Veloce Oh Veloce C'è una scia Di sangue Che non c'è Perché c'è una Scia di sangue Che non c'è Mi sto cagando Monkai Sì parecchio Parecchio Sì c'è una scia di sangue Definitivamente No aspetta 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 Allora Baby monitor Non mi ricordo L'unica tv È quella dove c'è Massimo Che ora è Cursed Con la stanza Quanti monkai È bellissimo Questa cosa L'unica tv Che mi ricordo È quella Nella stanza Cursed Il comodino Ma in questa stanza Devo Devo uscire In questa stanza Ma in questa stanza Lo abbiamo già fatto C'era C'era Il baby monitor C'era Il baby monitor Quel coso C'era Però siamo già entrati Nel flash Perché Sì c'è del sangue Sì c'è del sangue Oh Che cazzo è sto rumore adesso? È normale? Aiuto chat Chat Tieni Tienimi la mano Chat So close Ok Credo siamo a posto Monkai Monkai stream Sparagli 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 Sono terrorizzato Sono terrorizzato Good choice Good choice Che icona Cosa sia la cosa La più brava credo sia la cosa più non ho mai sussurrato tanto con un gioco, mai mai ok è l'1.10 ok, credo, basta 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 ha fatto la finta, seriamente ha fatto la finta basta give me, give me che cazzo è stato? vai pepe jam ok ragazzi si può salvare, vero? inventario ricordi opzioni come si fa a salvare inventario ricordi main menu ah, your game autosaves ok ce la faccio ragazzi sono bagnato fradicio sono fradicio non ce la faccio credo sia uno dei giochi in assoluto nella top 3 di quelli più spaventosi che abbiamo mai giocato sicuramente top 3 di quelli più spaventosi